allora ci abbiamo messo migliaia 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 di anni per passare da scimmia da scimmia a homo erectus poi è arrivata la crinologia il computer l'ipad il tablet e adesso tutti tutti nel mondo grandi piccoli vecchi rincoglioniti sani diventa sono tutti così ricurvi ricurvi ipnotizzati da questo schermo e cammino fino a strisciare per terra adorando il sistema che li sta schiavizzando e i nostri bambini anziché giocare nei boschi nei prati guardare le stelle le cime degli alberi le vette innevate dei monti sono così ricurvi ricurvi su questo schermo maledetto diabolico satanico a fare cosa non si capisce ipnotizzati una magheria una cosa terribile che renderà tutti schiavi tutti schiavi per sempre per l'eternità alla merce di satana il conquistatore padrone del mondo buttate via questo sterco del diavolo ciao 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 ciao